E' morta ieri a Pagani una donna di 56 anni a seguito di un malore. I familiari avrebbero immediatamente contattato il 118 ma a bordo dell'ambulanza pare non ci fosse il medico. La donna è quindi deceduta prima di arrivare in ospedale. Una seconda ambulanza con il medico a bordo arrivata successivamente ha poi soccorso il marito che ha avuto un malore. Al momento non è stata disposta l'autopsia ma la salma posta nell'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore è a disposizione dell'autorità giudiziaria del PM Anna Chiara Fasano per accertamenti autoptici. I familiari contestano ai sanitari del 118 di avere sottovalutato la gravità inviando un'ambulanza senza medico e con un solo infermiere. Le indagini in corso serviranno quindi a far luce sul tipo di segnalazione arrivata al 118 e sull'idoneità dell'equipaggio dell'ambulanza. La donna deceduta era già in cura per alcune patologie. L'episodio arriva soltanto pochi giorni dopo la pomenica lanciata dalla deputata Virginia Villani che la scorsa settimana ha denunciato la problematica nell'agro. A Nocera Inferiore e Superiore ha fermato la deputata 5 Stelle via una sola ambulanza disponibile con medico a bordo per due città. Stesso discorso per Sarno e Pagani. Adesso anche Angre e Scafati si trovano nella stessa situazione, spiega Villani. Mi sono recata più volte alla direzione sanitaria generale dell'Asla di Salerno per chiedere il potenziamento del personale 118 ma nonostante gli ultimi concorsi banditi per il personale medico in convenzione la carenza di medici per l'emergenza resta ancora grave. L'opportuno rivedere in termini normativi le regole di ingaggio del personale offrendo più certezza ai operatori e in particolare ai medici e infermieri del 118. Diversamente la risposta emergenziale sui territori sarà insufficiente. Poche settimane fa a rilanciare l'allarme era stato il sindacalista Alfonso Desiderio della Fasi, la federazione autisti soccorritori italiani. Troppi pochi medici presenti sulle ambulanze che assistono i cittadini dell'agro.